L'artigianato conferma tutta la sua professionalità e vocazione turistica. Alla vigilia di Ferragosto l'Ufficio Studi di Confartigianato, Imprese Sardegna, fa il primo punto sul turismo nell'isola perché il settore rappresenta un'importante opportunità di sviluppo e crescita per numerosi settori strettamente collegati. Il connubio tra artigianato e turismo si evolve di anno in anno ed è un legame al quale le nostre imprese guardano con interesse per offrire prodotti e servizi di qualità ad alto grado di personalizzazione e spesso caratteristici di quel made in Sardegna particolarmente apprezzato dai turisti, commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, che prosegue Possediamo un patrimonio inestimabile da offrire al turista ma senza la professionalità, l'intraprendenza, la voglia di investire e il coraggio di rischiare dei nostri imprenditori il turismo non verrebbe pienamente sfruttato. 6.623 realtà artigiane, oltre 16.000 dipendenti, numeri dello studio che dimostrano come turismo e artigianato siano complementari e come debbano essere promossi e venduti insieme. Dobbiamo renderci conto che è adesso che diviene necessario programmare, promuovere, combattere per rendere sempre più appetibile e fruibile la nostra terra, sottolinea la presidente Lai. Confidiamo nei flussi turistici che, come accaduto negli anni passati pre-pandemia, possano sostenere l'economia delle aziende che lavorano a stretto giro con i vacanzieri. Certo è necessario sostenere il settore dal punto di vista della promozione delle loro produzioni di qualità, che sono uno dei biglietti da visita più efficaci della Sardegna.